Amici miei è arrivata la mia nuova dieta e ve ne voglio parlare in questo video ma prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video dato che comunque lo scorso episodio in maniera totalmente inaspettata è andato molto bene e questo mi rende molto orgoglioso di voi perché mi fa capire che vi state appassionando al mondo dell'alimentazione e del fitness e questo veramente mi fa molto molto piacere però partiamo con i due soliti due solite premesse uno non sono un nutrizionista quindi non chiedetemi come cosa e quando mangiare perché non ne ho idea io ho il mio nutrizionista che è il doc che ogni tanto mi fa gli agguati in palestra mi controlla mi vede e poi elabora la dieta in base anche al mio personal trainer e qui arriviamo al secondo punto ovvero che non sono un personal trainer quindi non mi chiedete come cosa e quando allenarvi perché non ne ho la minima idea per far questo dovete andare in una palestra e rivolgervi a un personal trainer qualificato perché regà veramente questo è un settore dove se vi fate male ve lo riportate per sempre a livello muscolare legamenti ossa fidatevi regà andate solo da chi è qualificato ma adesso torniamo alla dieta dato che questa volta è molto più facile rispetto a quella dello scorso episodio questa volta abbiamo sostanzialmente la dieta divisa in due parti quella del post workout ovvero dopo allenamento e quella del giorno di riposo ok quindi quando c'è il giorno di riposo si mangerà meno carboidrati perché questa alimentazione è incentrata sul comunque diminuire il grasso nel corpo ma comunque aumentare la massa muscolare attraverso appunto le fonti proteiche ok allora iniziamo appunto dal giorno workout prima di pranzo che è principalmente la mia la mia tabella dato che io mi alleno sempre e solo la mattina questo ve lo posso consigliare la mattina per allenarsi è il top meno gente in palestra tutto un po più più tranquillo abbiamo come al solito quattro pasti post workout l'equivalente del pranzo spuntino 2 cena e pre nanna allora partiamo dal pranzo post workout quindi finisco di palestra arrivo a casa seguo questa tabella 90 grammi di riso o pasta 90 di couscous devo scegliere un alimento tra questi allora io sostanzialmente vado sempre a o pasta oppure couscous perché raga vedete 345 grammi di patate sono veramente tante sono l'equivalente quasi di quattro patate e da buttare giù sono davvero toste a meno che poi non mettete sale olio e quant'altro che io personalmente eviterei andiamo invece alla fonte proteica abbiamo o 160 grammi di pollo o 365 d'albume immangiabile 120 di bresaula strozzabile 190 di pesce magro 145 di torno al naturale o 185 grammi di salmone fresco allora io per questa combo raga che cosa vi posso consigliare ad esempio quello che farei io mi prendo 120 grammi di bresaula 11 gallette di mais mi metto queste questi questa bresaula sulle gallette e le butto giù perché altrimenti raga se voi mangiate la pasta poi dopo provate a mangiare 120 grammi di bresaula fidatevi non scende per quanto riguarda la fonte grassa abbiamo o 25 semi di 25 grammi sempre grammi si intende semi di lino 2 rossi d'uovo non grammi vabbè 2 rossi d'uovo 11 olio extravergine 40 di parmigiano 45 di avocado che doc te lo dico non lo manierò mai perché mi fa cagare e 15 grammi di maionese allora io prediligo quasi sempre il parmigiano ma vi assicuro raga che 40 grammi di parmigiano è un bel tocco un bel tocco e non è che scenda proprio benissimo poi nell'altra tabella abbiamo carne di manzo girello sgombro o salmone affumicato che tendenzialmente non le prendo quasi ma in considerazione perché mi soffermo sulle tre tabelle di prima passiamo allo spuntino numero due che sarebbe la merenda ecco la merenda pomeridiana abbiamo 35 d'avena questa è la prima volta per esempio che che ce l'ho mi sa all'interno della dieta non la non la gradisco tre gallette o vasa o fette biscottate non male tre crackers di riso 35 di pane o 20 crema di riso regà la crema di riso l'ho provata una volta a momenti vomito l'anima per quanto fa schifo però vabbè andremo di nuovo a gallette per quanto riguarda la fonte proteica abbiamo 17 proteine in polvere che non prendo raga perché ho problemi 155 di albume 50 di bresaula anche qui 155 di yogurt greco magro quindi senza grassi e 155 di ricotta che personalmente non gradisco quindi in questo caso nello spuntino noi andremo a yogurt greco questa sarà la mia scelta per quanto riguarda i grassi e regà 15 di frutta secca probabilmente andrò con 15 mandorle che comunque non sono tantissime non sono pochissime diciamo che riesco a strozzar me le tra virgolette passiamo alla cena dove abbiamo 30 di riso vabbè anche qui noi andiamo sulle gallette di riso o di mais quindi andiamo sempre a mais o addirittura aspetta no scusate nella cena io spesso prediligo il pane ma mi sembra che sì 45 grammi di pane che è mezzo panino più o meno anzi forse anche qualcosa nemmeno di mezzo panino e dentro ci possiamo ficcare appunto un po di bresaula tonna naturale perché no tonna naturale raga col pane non è proprio il massimo però dai diciamo che si mangia e poi come fonte grassa torniamo di nuovo con o la maionese magari ci metto il petto di pollo possiamo fare questa accostata e poi andiamo avanti con l'altra tabella qualora vogliamo prendere la carne di manzo girello poi per il pre nanna raga lo potete notare voi più o meno regà è tutto molto simile le quantità non so se avete notato a livello proteico rispetto alla dieta dello scorso episodio che vi lascio qui sopra nelle schede ha delle quantità proteiche un po più alte motivo per cui si va a volumizzare il corpo allora poi abbiamo il giorno di riposo ecco qui è la differenza perché anche nel giorno di riposo la fonte proteica rimane comunque alta però si abbassa anzi quasi si abbatte il muro dei carboidrati che è sostanzialmente quello che vi fa mettere un po la panzetta ok chiamiamola così 25 grammi di riso basmati o pasta ora raga io l'altro giorno ho misurato 25 grammi di pasta con le farfalline e sono l'equivalente di 5 farfalle cioè ora io posso mai buttare la pasta per 5 farfalle no quindi che faccio vado a pane oppure vado a gnocchi magari però mamma non me li fa mai quindi figuratevi se io lo so cuccio ma gli gnocchi nel mango difficilissimo vabbè andiamo sulla fonte proteica guardate nel giorno di riposo raga la fonte proteica è comunque altissima addirittura maggiore di quella sopra perché se nel pranzo sopra avevamo 365 di albume qua sotto ne abbiamo 490 cioè raga questa è una dieta calibrata esattamente per il mio corpo ecco perché non potete utilizzarla perché le le diete sono per ogni persona e variano appunto da fisico a fisico semi di lino girasole sesamo direi di no 50 grammi di parmigiano raga 50 è un tocco bello abbondante e la maionese è 20 grammi lo spuntino 210 di yogurt raga cioè considerando le confezioni di yogurt che compro io sono due vaschette ora dato che comunque due vaschette chi cazzarola se le magna quindi noi che cosa faremo anziché due vaschette mangio una vaschetta di yogurt greco e poi vado a prendere magari anziché 70 di bresaula 35 di bresaula perché vi ricordate come vi ho spiegato noi possiamo prendere due alimenti della stessa colonna a patto che dimezziamo le quantità quindi anziché 210 prendiamo 105 di yogurt greco e 35 di bresaula così dai una mezza rimodellata ecco alla questione proteica e riesce a mangiarla perché raga io penso che 210 di yogurt greco non riesco a mangiarlo neanche se ho tipo la fame del mondo a una certa sbigozzo poi abbiamo vabbè la frutta secca le solite mandorle per cena abbiamo vabbè carboidrati quasi quasi niente proteine sempre a palla perché tonno al naturale 195 sono tipo due scatolette di tonno raga anche due scatolette di tonno non me le magno quindi si fa di nuovo anche qui metà quindi 100 100 e qualcosa di tonno al naturale e tipo la metà della bresaula cioè di nuovo bresaula non ce la posso fa farò petto di pollo probabilmente quindi 105 di petto di pollo e qui vado a mettere i 20 grammi di maionese che ho nei grassi per forza raga se no non ne la posso fa qui entriamo anche nel discorso integratori pasto post workout vuol dire che io durante il pasto dopo l'allenamento mentre mangio devo prendere queste due compresse di insugenics che mi aiutano nella sensibilità insulinica non vado a fondo a questo discorso raga perché stiamo qua a parlare per 20 minuti e non ne vale la pena e invece appena sveglio due compresse di termogenico che ti dà un po una mano a bruciare i grassi e soprattutto ti dà anche un po di energia in più pre workout quello che io devo prendere prima di andare in palestra ovvero 6 grammi di aminoacidi essenziali che sono sostanzialmente delle pasticchette che vanno ad aiutare il muscolo durante il lavoro nella ricostruzione ok questo è più o meno la definizione ignorante che mi è stata data ed è l'unica che tra l'altro posso capire intra workout sorseggia il pre workout senza zuccheri che io non prendo raga per appunto problemi post workout sono gli integratori post workout che io non prendo sempre per la medesima situazione ovvero che sono intollerante a diverse cose poi vado vado male al bagno insomma tante cose e questa signori sostanzialmente è la mia nuova dieta quella che devo tra l'altro seguire per tutto il mese di luglio e forse anche oltre quindi con questa dieta io vado ad aumentare il mio volume ma comunque allo stesso tempo riduco la massa grassa quindi si va a sostituire grasso con il muscolo e quindi signori andiamo ad evolverci come dei fottutissimi pokemon per questo video è veramente tutto ragazzuoli grazie mille per aver seguito tutta stava pardella spero che vi sia servita o perlomeno vi abbia incuriosito noi ci vediamo con i prossimi video magari in palestra chissà mi piacerebbe ma un po mi vergogno sempre solo qui su tuberanza ciao iscriviti al canale